La famiglia è un diritto inviolabile per ogni bambino. Eppure dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sui minori fuori famiglia mettono in evidenza la difficoltà di garantire risposte adeguate e tempestive a questo tipo di bisogno. Ci sono regioni che possiamo simbolicamente definire fuori famiglia per la presenza di carenze in merito a questi temi. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Molise. Donare Futuro è la campagna per chiedere alle regioni del centro-sud Italia e all'adozione di 5 misure urgenti per tutelare il diritto alla famiglia di bambini e ragazzi. Primo, garantire sostegni economici, sociali, psicopedagogici alle famiglie che adottano bambini disabili o ragazzi di età superiore ai 12 anni. Secondo, istituire un fondo regionale per l'accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni che escono da percorsi di affido familiare o di accoglienza in una comunità. Terzo, garantire alle famiglie affidatarie il rimborso delle spese che sostengono durante l'accoglienza di bambini e ragazzi ed assicurare la stipula di apposite coperture assicurative. Quarto, favorire la diffusione dell'affidamento dei neonati privi di un ambiente familiare idoneo. Quinto, istituire tavoli regionali sull'affido familiare con il coinvolgimento dei servizi sociali, dell'autorità giudiziaria minorile e delle associazioni. Sottoscrivi il manifesto con le 5 richieste alle regioni. Visita il sito www.diritto alla famiglia.it 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 www.diritto alla famiglia.it